Il mare non ha paese, è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e muore il sole. Ed è ovviamente di sole che si parlerà in questo capitolo, perché il Dio Nica ancora una volta è prepotente. Sì ragazzi, sono sempre più del parere dopo aver riletto più volte questo capitolo, è veramente, questo capitolo va riletto più volte, che secondo me One Piece sono delle opere più belle mai scritte in assoluto, forse è anche la più bella secondo me. Sarà che adesso è un po' un'opinione di pancia, però è incredibile come dopo tutti questi anni questi flashback, anziché diventare anche un po' ripetitivi e prevedibili con questo tizio che soffre, poi il sorriso, bla 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 bla, nonostante questo niente da fare, continua a funzionare in salse sempre diverse, dalla morte di Ace alla morte di Oden, adesso le riviviamo un po' tutte parlando di questi sorrisi, la morte dilucinante, questi flashback pazzeschi, e alla fine stiamo sempre lì, in un mondo dove innanzitutto c'è da dire una roba, secondo me l'antagonista continua sempre ad essere la chiave di volta di un'opera, perché Rufy è un po' come Peter Pan, se non ci fosse il cattivo sarebbe un idiota che sarebbe stato lì a ridere senza motivo, forse non si reincarnerebbe nemmeno. È la presenza di Im e dei Gorosei, di questo mondo così marcio e malato, che danno un senso straordinario al sorriso di Rufy, e di questo parleremo, già è stato detto tanto nella live però, tanta roba, e che ci fa sta roba qui? Vabbè l'intro ho dimenticato di mettere Buggy il clown, vabbè mi sono dimenticato talmente, queste cover del cazzo talmente che sono brutte, mi sono pure dimenticato di metterlo, ho lasciato alla scorsa che insomma è più bella di Buggy, comunque vabbè, complimenti a Buggy che nelle One Piece live action è venuto così bene che l'ha ripetuto nella cover del 1095, parleremo del finale di questo combattimento tra Rufy e Kisaru, giusto due robe perché è un battle shonen, ce lo dimentichiamo ma One Piece è un battle shonen, e quindi è giusto commentare anche questo, parliamo di questo Saturno sempre più divino praticamente, e poi vabbè, che ve lo dico a fare, il personaggio di Kuma che si sapeva essere molto interessante, di essere un po' quello che faceva un po' tutto in One Piece, ma sta partendo un flash o becco di quelli pazzeschi, parliamo però attenzione di una cosa, così come la volta scorsa avevo detto attenzione c'è sempre un po' il rischio, non è una critica ma è una riflessione, ancora una volta non è una critica ma è una riflessione su come però il manga si sta evolvendo, su questi Gorosei combattenti, Im quasi sicuramente super combattente, Garling, i draghi celesti che mo' combattono pure loro nei Cavalieri Celestiali, però non so, non so, ho dei dubbi su questo, volevo condividerli con voi, parliamo ovviamente del personaggio di Nika, che alla fine si ripropone più volte, e alla fine quindi dando un senso ancora più forte al protagonista, e in conclusione ovviamente il capitolo termina con lui, parliamo anche di lui, del buon Garling, comunque prima di questo lanciamoci anche un'analisi tecnica perché c'è tanto da dire. Allora io pensavo di partire da questa situazione, Oda quanto sei bravo a fare capitoli di quelli che occorre rileggerli più volte? Risposta sì, questa va bene, è una vecchia battuta giusto per chi la conosce, comunque in prima pagina Oda subito ci immergere praticamente nelle battute finali del 1094, siamo sempre lì con il buon Saturn che si prende questa pagina, questa vignetta oscurissima rispetto a tutte le altre, veramente molto bella, nella seconda invece mi viene proposto questo scambio di sguardi fra Saturn e Vegapunk, che praticamente è, per chi si ricorda, una ripresa dell'ultima pagina del 1094, tutto molto bello. Pagina 3 detta anche la pagina anti dell'email, infatti vediamo Sanji nella fascia centrale che prova ad attaccare Saturn, ma viene praticamente spazzato via e non si riesce neanche a capire come. E' veramente interessante, anche l'inizio di un combattimento fatto così con questi personaggi divini, con questi poteri superforti. Dopodiché, pagina 4 abbiamo un senso claustrofobico, perché vediamo tutti i Muguara accerchiati in alto, c'è il povero Rufi ma ridotto a terra, con questo scambio di sguardi ancora una volta tra Saturn e minacciosissimo, e il povero Rufi lì che non riesce neanche a reagire. Dopodiché, bellissima questa, l'ho adorata questa pagina, perché è una pagina da urlo, Saturn è al centro e nonostante la vignetta è piccolina la sua, ma praticamente comanda tutto, Rufi, Bonnie, tutti quanti intorno che cercano di attaccarlo, ma lui è divino dal punto di vista così. Andiamo avanti, l'impaginazione si calma, abbiamo una bella panoramica con uno zoom all'indietro fortissimo, un bel doppio volto tra Vegapunk e Saturn e poi c'è una scena stupenda qui per l'inquadratura, la scelta di dove posizionare la telecamera in basso, per terra, come un cellulare che ci è caduto dalla tasca e parte una fotografia da terra, bellissima questa. Pagina 7, questo è il trampolino di lancio, ovviamente per il finale di questa prima parte, con Saturn che è pronto a schiacciare Julie Bonny, e lì tutti i marine che provano appunto a sparare Julie Bonny e parte o flash o becco. E allora andiamo a parlare di questa cosa, ovviamente vediamo Bonny conciata in questa maniera, una scena fortissima, bella anche la scelta delle mani di Saturn con queste unghie appuntite così, veramente molto bello. E allora ci siamo perché praticamente da questo momento in poi parte poi il flashback. Allora, il flashback è ricchissimo, qualcuno secondo me potrebbe anche considerare queste vignette così impaginate piuttosto caotiche dal punto di dire, ragazzi sapete non ci ho capito tanto, perché cioè in un attimo abbiamo la panoramica iniziale, i genitori, poi parleremo comunque della scelta dell'inquadratura dei genitori, il dottore, la presentazione, il pericolo, la disperazione, la fuga, c'è tutto in una sola pagina. Cioè ogni vignetta, occhi e croce, schippa di mesi dalla precedente. Questa è una cosa comunque forte ovviamente, ma Oda deve andare veloce nel riassunto. Dopodiché anche quest'altra pagina del flashback abbiamo in alto l'inizio della schiavitù, tempo pochissimo e praticamente loro sono già schiavi e dopo un po' che sono schiavi è morta anche la mamma. Cioè si corre tantissimo, però comunque effettivamente dopo qualche rilettura si inizia a capire la situazione. Poi c'è la reaction di Kuma, mi è piaciuta molto questa situazione, anche perché dopo ne parliamo come approfondimento. La reaction di Kuma che potrebbe avere vari sbocchi, rabbia, vendetta, tragedia, e invece c'è una speranza nica che viene messo lì in quell'angolino a destra. Nella fascia centrale ci sono i racconti di speranza e il sorriso, ma c'è un dettaglio qui che veramente va evidenziato. Il sorriso dove le gocce di sangue della vignetta dello sparo, che è l'ultima a sinistra, entrano nella vignetta precedente, perché mentre sorride Kuma viene comunque inondato dal sangue del padre che viene sparato. È qualcosa di potentissimo, che veramente ci spiega la rapidità con cui può morire un uomo, tanta roba. Dopodiché si va già a God Valley, è l'inizio della caccia, anche in questo caso Roda corre tantissimo, si vede prima il re e nella vignetta di sotto il re che viene ucciso. Viva il re, morto il re direbbe qualcuno. Dopodiché viene presentato ovviamente Garling con tutte queste fans, eccetera, che mi ricorda qualcosa. Un personaggio che quando viene presentato è strafico, con tutte le fans, tutte che lo adorano. Chi è che ricorda una presentazione del genere, con una vignetta che si prende praticamente la pagina, trabocca nelle pagine successive, ma giusto per dire un 1076 a caso. Shanks è che praticamente è una presentazione, non dico simile, è identica alla precedente. Comunque, ovviamente è un manga ricchissimo, è un capitolo ricchissimo, un volume stupendo, ma rimane sempre questa cosa. Nell'ultima pagina abbiamo praticamente il riallaccio con l'inizio del flashback che avevamo visto da parte di Julie Bonny, e poi queste new entry, una new entry che sappiamo benissimo, che poi sarà sacrificabile perché la mamma, mi dispiace per chi pensa che sia la mamma di Rufi, ma è la mamma di Bonny, e poi la vecchia conoscenza, Ivan Goff. Un capitolo ricco, tante cose da dire, ma soprattutto il grande mistero. Nella situazione così disperata, ma chi riuscirà mai a salvare Saturn dal potere più grande visto finora in One Piece? Questa è la vera grande domanda. Per rispondere la dobbiamo lanciare prima alla sigla. Se non finisco un discorso serio con una battuta perverta, non so. Detto questo, allora, c'è tanta roba da dire. Vi giuro ragazzi, mi scoppia la testa questo capito. Comunque, partiamo prima dalle cose belle, Rufi e Kisaru. Belle, vabbè, so che ci... ho letto tante critiche, a me non è piaciuto molto. Io ve l'ho detto già la volta scorsa, il vero uno contro uno è tipo Aokiji contro Akaino. Se ne vanno su un'isola, rimangono lì dieci giorni e uno dei due prima o poi perderà dopo un combattimento dove hanno dato tutto loro stessi. Questo non è un combattimento del genere. Anche in fondo Rufi contro Katakuri, chiusi nel loro Mirror World, eccetera. Questo non è quel tipo di combattimento, è un'altra storia. Quindi, vediamolo per quello che è. Innanzitutto, chi ha vinto? Bella domanda, perché in questo momento vedo due persone a terra, entrambe KO. Teoricamente dovrebbe aver vinto quello che si rialzerà per prima. Cioè, non lo sappiamo ancora. Chi di due si rialzerà per prima, quello vincerà. Sembra un po' il finale di Rocky, una roba del genere. Comunque, Kisaru è a terra, non ce la fa ad alzarsi. E ci sono due traduzioni diverse qui da parte di Saturn. In un caso dice, stavolta sei stato lento, però ne capisco il motivo. Quindi lo giustifica dicendo, eh, ma sai, non è che potevi farci più di tanto contro il grande nica. Mentre invece nella traduzione inglese, è un po' diverso. Dice, non è mai successo prima, non ha precedenti per te di essere così lento nell'eseguire un ordine. E date le circostante, posso capire perché tu ti senti deluso. Posso capire la delusione. Cioè, quasi come dire, scusami, vi date le circostanze. Cioè, dover battere un semplice pirla come questo monkey di rufi. E capisco la tua delusione. Di amico, non ci sei riuscito a batterlo. Cioè, guardate le traduzioni, come a volte cambiano completamente le cose. Io sarei più per la prima. Perché comunque, secondo me, Se Saton conosce chi è nica, dovrebbe pensare che non basta un semplice ammiraglio per sconfiggerlo. Per quanto semplice. Adesso ho qui tutti i puristi e i fan di Kisaro, eccetera. Però vabbè, io sono più di questo parere, così. Comunque, alla fine, ragazzi, è una cosa che mi sorprende sempre. Di come i livelli di forza in One Piece siano inutili, no? La resistenza di rufi contro Katakuri è stata pazzesca. Talmente forte che è stata anche criticata. Cioè, un combattimento che a un certo punto sembrava surreale. Rufi è stato colpito in tutti i modi possibili. In tutte le salse si rialzava sempre. Assurdo quasi. Al punto da dire, ma Katakuri sta facendo sul serio o no? Ma lo sta colpendo con tutto se stesso? Sì o no? Mentre invece, Rufi è praticamente KO contro Kisaro che non riesce neanche più ad alzarsi da terra. E cosa ha subito? Un fronter-dom all'andata. Un fronter-dom al ritorno. Ha preso in pieno il colpo di luce di Kisaro che l'ha, tipo, mangiato. E poi quell'altro colpo di Kisaro che l'ha fatto girare. Ma mentre girava gli ha dato pure il pugno. Questi quattro colpi è praticamente morto Rufi. Non ce la fa neanche ad alzarsi. Persino Saturn lo stava infizzando con una zampa e dovuto intervenire Franchi a salvarlo. Ma com'è possibile tutto questo? La resistenza di Rufi mi è sembrata troppo bassa conoscendo Rufi. Sì, il Gear Forte consuma molto. Vero. I nuovi Gear per Rufi sono molto dispendiosi di energia. Lo era il third, lo è stato il fourth e adesso il fifth. Vero. Però, possiamo fare un discorso un attimino diverso rispetto a questi livelli di forza come se fossero algoritmi precisi di una matematica divina e pura? Vogliamo parlare del fatto che parliamo semplicemente di un manga con un battle shonen che non è così preciso e dove tutto è sempre deciso dalle esigenze di trama? Cioè, ragazzi, non si tratta di livelli di forza. È la trama. Come vi dicevo anche la volta scorsa quanto tempo Kisaru resterà per terra dipenderà dal fatto di quanto tempo o da bisogno che Kisaru rimanga a terra. In questo momento un Kisaru all'impiedi accanto a Saturn non ci azzeccava niente avrebbe tolto la scena al Saturn invece lasciare Kisaru lì fuori è meglio perché Saturn così è solo contro tutti ed è più figo. Io vedo più questo più che i veri livelli di forza è una questione di trama e quindi questo è tornando anche alla domanda di prima chi si rialzerà da terra prima Rufy o prima Kisaru? Ma sì, dipenderà un po' dalla trama. Faccio poi anche un altro esempio. Il potere di immobilizzare le vittime che ha Saturn, ok? Quindi ha immobilizzato a Franchi, Vegapunk e Sanji che non riuscivano a muoversi. Perché non l'ha usato prima? Perché non l'ha usato consentendo a Franchi di fare quel pugno e salvare Rufy dalla zampona che lo stava infizzando? Cioè, usava quel potere immobilizzava Rufy, immobilizzava Franchi tac, e Rufy era morto. One Piece durava 1095 capitoli. Cioè, vedete come ci sono delle forze... Non è una critica, eh? Non è una critica a One Piece. È giusto che sia così. È un manga e deve avere la sua trama. Per me è una critica a questi discorsi Oh, però non mi piace. Chisaru contro Rufy mi ha deluso. Ma questo, eh? Bisogna prendere i battle di One Piece che vanno presi per quelli che sono. E poi, a proposito di trama, anche come al momento la situazione è strutturata. York non si sa che fine ha fatto. C'è un altro gruppo con Nami, Chopper, Usopp e la... Stussi, Bacchine, chiamatela come volete, che è praticamente invindivita. Rufy, eh, buonanotte, ho scritto Rufy. Zoro e Lucci che stanno combattendo da una parte e non si vittono da quasi due capitoli. Nico Robin che è scomparsa, anche lei. Non pervenuta. Quindi, chissà che sta combinando lei. E ricordiamoci che nell'isola sta gironzolando pure Karimao, Ticci e tutti gli altri. E poi abbiamo questo gruppo centrale lì con la maggior parte dei Mugiwara e poi Saturn e Kisaru. Kisaru a terra e Saturn lì. Questo è. Oda deve decidere adesso nella trama come vuole fare per salvare Rufy. Sarà il robottone? Sarà Kuma? Tanto Rufy si salverà. E la frase di Saturn ha ancora più impatto. Certo, se ti salvi anche adesso ce ne vuole. E infatti Rufy si salverà anche in questo caso. Parliamo di Saturn. Oh, entriamo un pochettino in questo discorso che poi ci avvierà tutto il risseguito. Siamo praticamente in una modalità God. Quella lì che è nei videogiochi è in modalità God, il trucco. Io mi dicevo, in vari giochi c'era Sam, come si chiamava? Il distruttore. Duke Nukem, dei vecchi giochi. Tu avevi la modalità God mod ed eri invincibile. Ecco, praticamente Saturn al momento è messo così. Incredibile. Addirittura alle persone che corrono dicendo, i soldati, non siamo degni di stare al suo cospetto. Cioè, qui non stiamo parlando solo di forza. Perché i soldati non sono degni di stare neanche al cospetto di Kisaru, che è un ammiraglio fortissimo. Però ci stavano. Cioè, qui addirittura non sono degni di stare vicino a questo. Allora non è solo perché è forte. Perché c'è sempre questo discorso quasi faraonico, mi verrebbe da dire, di un personaggio che è sia potente, sia divino. Perché dire, non sono degno di stare al tuo cospetto, di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola, io sarò salvato. È veramente un modo in cui Ode ci vuole far intendere il personaggio dei Gorosei. Ok? Vediamo anche un po' i poteri. Un potere d'attacco incredibile, tipico dei personaggi che arrivano all'improvviso, dove danno dei colpi e non si riesce neanche a capire come hanno fatto. Mi ricordo quando Gohan, appena trasformato in Super Saiyan di secondo livello, strappa i fagioli di Mattia Balzara dalle mani di Cell. Una roba incredibile, cioè che Cell dice come è fatto a fregarmi i fagioli? Dannazzura non l'ho neanche visto. Ecco, quell'effetto, no? Quell'effetto, poi dopo il Super Saiyan di secondo livello, ad esempio rispetto a Majin Buu, è lentissimo. Per cui quel gioco in cui all'inizio un personaggio appena apparso deve avere questi poteri magici, vabbè, qui c'è tutto Toriyama in questa storia. Comunque, bellissimo, Bonnie viene colpita, Sanji viene colpita, non si riesce neanche a capire come e perché. E adesso chi fa i livelli di forza, matematici, dirà che Sanji è scarso, eccetera, senza magari avere quella chiave di lettura. Personaggio appena apparso, quindi diamogli quei due o tre capitoli in cui deve sembrare Upatatern. È sempre stato così, andiamo avanti. Un altro potere ancora, il potere dell'immobilizzazione. È una forma di Akin, è un potere che a me ricorda molto Scorpion, Milo, di Saint Seiya, quando, essendo uno scorpione, sempre di Arachnid, stiamo parlando, riesce a immobilizzare le prede, con la forza telecinetica per poi riuscire a colpirle. Sì, può essere anche quello, un effetto del frutto, più che una forma di Aki. C'ha un potere anche rigenerante che è Naruto sposta di proprio, c'è una roba che questo qui si fa infilzare, tanto dopo si leva la spada e la ferita subito remargina. Come mai? Sempre un potere del frutto. È un potere, in realtà non è neanche un frutto, è proprio lui di una razza particolare, la razza degli Ushioni, che cacchio ne puoi sapere? Oppure una capacità rubata ai Lunariani? Loro hanno il potere della rigenerazione, quindi hanno avuto anche modifiche al DNA? Non lo sapremo mai, forse lo sapremo molto più là. Certo che la vera domanda in tutto questo è quanto durerà sta storia. Cioè, Saturno così forte ovviamente non è gestibile per il proseguo del manga. Prima o poi i Gorosei dovranno iniziare ad apparire sempre più scarsi, ok? In modo da diventare un attimino più battibili, altrimenti il manga si ferma. E quindi la vera domanda è quanto tempo ancora durerà? Per me un primo esempio può essere che se Saturno fallisse la missione, e quasi sicuramente la fallirà, perché, cioè, Rufy non può morire, è il suo manga, e quindi dopo il plot armor concediamolo in questo caso, quindi Saturno fallirà questa missione, Rufy gli scapperà. Ora la domanda è come la prenderà Im? Cioè, Saturno torna a Mary Joa e Im dice bravo, bravo, ti sei fatto scappare Rufy, vieni qui, chiudiamoci un attimo nella stanza soli e te, dopo cinque minuti Saturn esce tutto gonfio, e allora ecco che inizieremo ad avere una visione già diversa del Gorosei, e anche di Im, che a questo punto diventa fortissimo, ma prima di parlare di Im, parliamo un attimo di Kuma, ecco qui andiamo in un discorso invece assolutamente filosofico. Allora, dopo la live di giovedì, sì, oggi è stavo, di giovedì, non voglio più ronvenire le balle troppo con la filosofia, preferisco andare su altre storie, però ragazzi, è un capitolo incredibile perché si riesce in buona parte a rilacciare al vecchio caro One Piece, dove i draghi celesti e il loro modo di interpretare il mondo ci ha sempre sconvolti, un One Piece che riesce a toccare le corde dell'anima, concedetemi questa licenza poetica, tanta roba, però, nella live abbiamo parlato, non so come, siamo arrivati a parlare anche della sfida eterna uomo natura, no? ad esempio in questa frase, ma voi esseri umani siete strani, più noi diamo ordini e più diciamo da loro di smetterla e più loro sono invogliati a perseverare, quest'uomo che vuole sempre opporsi alla natura, grazie a questa frase, poi abbiamo parlato praticamente di Fichte, di Kant, di tanti filosofi, eccetera, in questa sfida che si riallaccia in un mondo ipotetico dove Rufi rappresenta l'uomo e la sua libertà e Im rappresenta la natura e le sue leggi, c'è un po' questa idea, ma andiamo avanti, ne abbiamo già parlato nella live, abbiamo parlato anche dell'ipocrisia del mondo, questi draghi celesti fanno schifo, mi sembra ovvio che istintivamente tutti noi odieremmo i draghi celesti se fossimo nel mondo di One Piece, però poi chissà perché ci sta sempre quelli che adorano i draghi celesti, che li invidiano, quelli che fanno l'applauso quando arrivano, quindi è un mondo anche molto ipocrita, per questo dicevo che One Piece è un manga che non può terminare con e tutti vissero felici e contenti, mettiamo una bella bomba, facciamo saltare in area a marigio, uniamo i quattro mari, facciamo raggiungere l'oro blu e tutti, ma quando mai? Ma quando mai? In One Piece i primi a essere razzisti sono proprio i comuni mortali, sono loro i primi che odiano gli uomini pesci, cioè One Piece è un mondo marcio dalla base e dalle fondamenta che è il mondo immalato, non abbiamo il dittatore Im, facciamo fuori lui, e il mondo è pulito, sano, sono tutte brave persone, liberiamole dal dittatore. One Piece è un mondo dove ci ha fatto vedere quanta corruzione c'è anche nella popolazione più semplice, quindi è un discorso veramente molto complesso, persino nei punk di Vegapunk ne erano appena sei, uno di questi è corrotto che voleva essere un drago celeste, quindi è molto interessante questa ipocrisia di fondo. Mi chiedo, nel nostro mondo quanti farebbero il tifo per i draghi celesti? Beh, basta vedere ad esempio quante persone preferiscono brava gente e quanti, pensate, tanti adolescenti che seguono fan follower, mettono i like a personaggi che sono disgustosi, personaggi che ostentano le loro ferrarie, le loro mercedes, il loro tipo di vita, vorrebbero essere tutti come loro. Io in un certo modo anche in questo mondo dove molti ragazzi, molti adolescenti adorano gli influencer, vabbè, non sono draghi celesti gli influencer, però ci siamo capiti, no? Non fate i pirla che volete per forza stravolgere le mie parole e ci siamo capiti. Cioè, gli influencer sono persone che fanno video dicendo ah, sono così stanco, stamattina mi sono svegliato presto a mezzogiorno e tutti i ragazzini wow, like, like, ma cosa cazzo like? Ma cosa? Ma cosa like? Ma veramente inviti uno che fa una vita così. Per cui, ecco, è un mondo malato anche il nostro e quindi Oda magari vuole puntare il dito anche su questo. E poi infine un'ipocrisia da questo punto di vista, perché no? Cioè, scusate, ma cosa c'è di strano in questo flashback? Ovviamente adesso sto facendo il provocatore, no? Però abbiamo parlato anche di questo, ma ripartiamo proprio da qui. Cosa c'è di male? Veramente, non sto scherzando, cosa c'è di male? Allora, i draghi celesti in One Piece prendono delle persone, degli schiavi, dopodiché prendono dei cittadini che non sono come loro, quindi vengono intesi come una razza inferiore alla loro, decidono di prendere questi uomini e di usarli come bestie a cui dare la caccia. E beh, qual è il problema? Fì, boom, parecchi che dicono, strek, che cazzo sto dicendo? Cosa vuol dire? Che allora noi possiamo anche uccidere altri? Ma no, infatti no, però la riflessione è questa, guardate che si è fatto, vi faccio un esempio, no? I gladiatori, i gladiatori a Roma, ne avevamo parlato, questo facevano, prendevano gli schiavi, li mettevano a morire lì nel Colosseo, facendoli combattere tra di loro per spettacolo. Ragazzi, non è One Piece, questo era l'Italia duemila anni fa, quindi cos'è che è cambiato? Perché abbiamo capito che questa cosa è ingiusta? Il mondo di One Piece è il nostro mondo, quello che fanno i draghi celesti non è roba da manga, è roba che si è fatta anche qui nel nostro mondo, quindi qual è il problema? Cos'è cambiato rispetto alla Roma del Colosseo rispetto ad oggi? È cambiato una cosa. Allora, io credo innanzitutto duemila anni fa anche i greci, avete presente i miti greci? Spesso la morale qual era? Che l'uomo non deve mai affrontare un Dio. C'è uno spaccato sociale tra i comuni immortali, infatti questo lo dice anche Calimberti, uomo si può dire in tanti modi, no? Antropos è il più famoso che conosciamo, ma in realtà loro preferivano come termine mortali e dalla i dèi. I dèi ad esempio alcuni come Apollo e Marzia, non so se conoscete questa storia, una sfida musicale, alla fine vince Apollo ovviamente perché poi c'è un inganno di suonare lo strumento all'incontrare, vabbè, alla fine Apollo per punire il comune mortale che aveva osato sfidare un Dio lo squarta vivo e lo mette appesa a un albero. Facciamo anche un disegno stupendo di Apollo che squarta il povero amico lì. Medusa e Poseidone c'è una leggenda di Ovidio, un racconto di Ovidio secondo cui Medusa era una bellissima donna, Gorgona, tra l'altro molto devota ad Atena, proprio Atena, la dea della saggezza, quindi chi meglio di lei, però purtroppo per essere devoti di Atena bisognava fare come Atena, cioè decidere della castità e restare vergini. E Medusa era così, lei era felicissima, rifiuta anche l'amore di un uomo che è innamorato di lei, però lei decide di fare questa vita da sacerdotessa. Poseidone, che odiava Atena perché era stato sconfitto, sapete cosa fa? Per punire Atena che gli stava sul cazzo, cosa fa? Prende Medusa, la sacerdotessa, e la spra nel tempio di Atena. La povera Medusa cerca di scappare da Poseidone ma non può farci niente, cioè chi può opporsi a un dio e quindi viene praticamente spraata da Poseidone. Voi direte ma adesso Atena se un cazzo piglia Poseidone lo piglia... No, Atena se la prende con Medusa dice come ti sei permessa di perdere la tua vergine proprio qui nel mio tempio e la trasformi in una Medusa. Ragazzi, che cazzo di storia è? Ma che cazzo di storia è? Cioè come puoi dare la colpa a Medusa quando lei ha subito violenza da Poseidone? Questa è la storia. Non vi sembra una storia da draghi celesti di One Piece? Senza una logica, senza una giustizia, dove gli uomini sono puntualmente colpivoli, dove gli dèi fanno quel cazzo che vogliono. Trovate una forte analogia tra il mito greco e la storia dei draghi celesti che sono degli dèi e comuni mortali che sono dei pirla, delle bestie. O al tempo stesso ho anche i giochi che sono gli stessi che facevano i romani. Atene e Aracne, altra storia, sempre di Atena, Dea della Saggezza che sfida Aracne, che è una bravissima donna brava a testare la tela e quindi lei dice, tutti dicevano ad Aracne sei bravissima, devi ringraziare l'Atena che ti ha dato questo grande dono perché Atena era anche lei bravissima a testare la tela e Aracne che rispondeva sin da piccolo no, io non ringrazio nessuno, sono io brava anche perché mi sono allenato e ho studiato. Atena si incazza, la sfida e anche in questo caso succede una cosa strana che ora voi direte vabbè, la sfida vince Atena. No, in realtà la sfida Atena ci resta di merda perché la tela di Aracne è stupenda e non lo sopporta e la trasforma in un ragno. Ma Aracne nonostante questo, vedete la lotta dell'uomo che continua a combattere nonostante tutto diventerà un ragno e quindi ci siamo capiti continuerà a tessere in maniera meravigliosa le sue tele perché i ragni sono animali fantastici in grado di creare delle opere d'art con le loro ragnatele, no? Quindi la storia di One Piece e di Draghi Celesti è quasi identica ai miti greci con questi dei che erano capricciosi, stupidi, basta eppure non ci sarebbero da fare, avevano sempre ragione loro. Questa è un po' la trama di One Piece e in tutto questo mettiamoci anche personaggi come Ginny la mamma di Bonnie guardate la scrittura in kanji Ginny Bonnie se questo non vi basta per capire che sono mamma e figlia veramente ragazzi andate a fare dopodiché c'è anche un altro aspetto bellissimo in questo questa cosa stupenda in questo flashback la reazione di Kuma allora Oda ci fa praticamente vivere il flashback dal punto di vista di Kuma, no? ovviamente perché Bonnie sta rivivendo i ricordi appena vissuti che sono quelli appunto del padre che erano rimasti lì e lei li vive quindi li ha vissuti in prima persona e lei li vive appunto attraverso gli occhi del padre mi chiedo ma un bambino che viene prelevato dalla sua isola a Natale va a vivere con i genitori a Mari Gioia i genitori schiavizzati la mamma è schiavizzata lui nonostante questo continua a mantenere il sorriso nonostante questo va tutto male la mamma gli viene uccisa ma diventa Kuma una persona buonissima uno che lotta con i rivoluzionari che alla fine aiuti Mugiwara e crede sempre in questa grande speranza Doflamingo ora non è per qualcosa ma caro Doflamingo ok ha avuto un passato difficile come tuo fratello rocinante però basta questo per giustificare la sua psicopatia cioè perché Diamino ha vissuto esperienze bruttissime più di un normale bambino però porca di quella cioè vedete come a volte anche la reazione cambia c'è da apprezzare il fatto che Kuma nonostante tutto non sia diventato un pazzo psicopatico furioso quindi questo flashback mi ricorda anche questo aspetto e vorrei fare anche un complimento al padre di Kuma per come è riuscito ad infondere il principio più bello che c'è cosa cambia tra Doflamingo e Kuma secondo me cambia la speranza il fatto che in Kuma è sempre nata l'idea anche il rosinante che prima o poi il mondo cambierà questo mondo di merda non può durare per sempre qualcosa salverà l'umanità e questa cosa ragazzi mi ricordo onestamente un film bellissimo che se One Piece è la bibbia dei manga per me questa trilogia che hanno creato è la bibbia dei comics americani e cioè vi cito questa frase chiunque può essere un eroe anche un uomo che fa una cosa semplice e rassicurante come mettere un cappotto sulle spalle di un bambino per fargli capire che il mondo non è finito e la persona in questione dopo un po' ci riflette e dice Bruce Wayne stiamo parlando di Batman ragazzi scusate è un altro mondo è il comics americani però io da piccolo cioè io e Batman io avevo tutti i pupazzetti di Batman quindi stiamo attenti a Batman ed è una situazione che mi ricorda un po' la speranza che il padre di Kuma ha tramandato a Kuma e Kuma tramanda da Jolie Bonny e la cosa bella della speranza è che è diversa da Nika cioè mi spiego Nika è un eroe quindi lui per trasmettere lui la crea la speranza e per farlo deve combattere salvare le persone invece io parlo di una semplice speranza da tramandare per tramandarla basta un racconto basta un sorriso basta uno sguardo basta far vedere che anche tu ci credi e quindi riesci a trasportare la speranza in un'altra persona vedete come dice anche Batman basta un semplice gesto a volte anche un cappotto sulle spalle e il bambino che capisce che il mondo non è finito questa è la chiave di lettura secondo me di perché Kuma non è diventato un pazzo psicopatico come Doflamingo perché qualcuno anche con un semplice cosa ha fatto il padre di Kuma niente non ha potuto fare niente di pratico non ha salvato il figlio il figlio schiavo è diventato schiavo era schiavo è rimasto eppure eppure è bastato un semplice gesto quel racconto questa è la cosa bella il semplice gesto basta è una cosa stupenda ragazzi per me questo comunque sono delle storie che stiamo vivendo in One Piece che sono pazzesche tuttavia questo One Piece ahiaiai prende un po' una piega una piega che non è detto che sia negativa però certamente è molto forte mi spiego subito perché perché i draghi celesti fanno quel che fanno alle Sabaody perché allora arriviamo alle Sabaody e vediamo queste scene i draghi celesti che schiavizzano che torturano che fanno quel che vogliono comprano razze di altri uomini per portarli a Marigio meglio essere morti che essere schiavo a Marigio l'hanno detto tutti tutti quelli che ci sono stati preferivano essere morti è il titolo del capitolo no ma perché possono farlo questa è la domanda che ci siamo posti per anni perché beh magari sono forti no perché Rufia le Sabaody dà un pugno in faccia a uno di questi draghi celesti quindi non sono forti allora perché beh alla fine succede che dopo il pugno arriva Kisaru che è fortissimo e punisce tutti quindi loro non sono forti ma sono protetti allora la domanda si sposta perché proteggono i draghi celesti e questa è la seconda domanda no quindi un personaggio quando comanda può farlo per due motivi o comanda perché viene ritenuto importante politicamente o addirittura con un alone di religiosità non si possono toccare perché sono dei potremmo pensare in One Piece in un mondo dove sono tutti tipo dei credenti di una religione dove i draghi celesti sono visti come dei tutti ci credono sul serio e quindi proprio per un motivo religioso sarebbe come chiedere a un cristiano di prendere in giro il papa non lo farebbe mai perché per lui è blasfemo quindi tutti coloro che sarronino in marina sono proprio di questa religione dove credono che i draghi celesti siano divinità cioè proprio lo fanno perché ci credono dubito dubito e forse c'è più un motivo politico c'è un ricatto non lo so invece Oda sta trasportando One Piece negli ultimi tempi direi da Sabo dal flashback di Sabo in poi in un altro motivo rispettano i draghi celesti non per motivi politici ma perché sono forti non tutti ovviamente certamente non quello a cui Rufio ha dato il puno in faccia San Juan Carlos ma questi i Gorosei ovviamente Saturn l'abbiamo visto qui quanto cazzo è forte adesso sta arrivando anche il papà di Shanks probabilmente Garling e in generale tutti questi cavalieri celestiali praticamente i Gorosei e questi fanno in modo che i draghi celesti vengano rispettati perché alle spalle hanno questi sono forti cioè è un mondo gestito praticamente dalla tirannia dalla dittatura però tutto sta cambiando adesso cioè l'imprinting del manga è diverso quindi anche chi sa Rolling Marina non è che sia Rolling Marina perché vuole mantenere l'ordine del mondo lo fa perché è obbediente verso questi potenti ma vi piace il manga così ma sapete che a me piaceva ecco perché quando mi chiedevano stracchi ti piacerebbe i Gorosei che combattono ho sempre detto di no poi da appassionato di Battle Show ne ve lo sapete adoro i combattimenti mi piace pure vedere personaggi cazzuti come Saturn perché è bello cioè c'è tanto Toriyama veramente in una vedere questi personaggi così però 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 io preferivo più un manga vi confesso più un manga misterioso quello che si continuava a dire ma perché cazzo sti Gorosei comandano scusate sti Draghi Celesti comandano rispetto a una giustificazione così più banale permettetemi il termine questi comandano perché sono forti quindi adesso posso immaginarmi un mondo di One Piece dove ci sono sti 5 Gorosei che sono fortissimi ci sarà Imma ancora più forte di loro e quindi il manga che terminerà in un'idea diciamo così di buoni contro cattivi di grande guerra finale dove poi si combatteranno gli uni contro gli altri non è che mi piace molto vi faccio poi un esempio anche un po' alla Kishimoto sta grande guerra finale di Naruto che a tanti non è piaciuta ma ha avuto di fondo un'idea i villaggi si affrontavano sempre tra di loro giusto? quindi il villaggio della Foglia si affrontava con il villaggio del Raikage del Fulmine e così via ma poi cosa offre Kishimoto per far unire per far coalizzare tutti crea un nemico comune Madara che poi si trasforma in altri nemici comuni ma sempre c'è il nemico comune e Yoda rischia di fare la stessa cosa quindi Titch Rufi Shanks persino Buggy Grogu dal Mioc cosa fanno? dovrebbero competere tra di loro ma in realtà si coalizzeranno tutti per affrontare il nemico comune cioè Im guardate ragazzi vi prego ditemi che non è così ma vi prego scrivetemi qualcosa per dire Strack tranquillo non diventerà questo perché altrimenti non mi fate dormire la notte detto ciò parliamo del sorriso di Nica porca puttana 36 minuti madonna santa sto capito le pazze 36 allora tanto l'angolo della posta ovviamente viene rimandato non è di giù ho visto un botto di messaggi nel forum se non vado avanti veramente arrivo a lunedì già con questo video comunque noi abbiamo visto vari tipi di sorrisi One Piece e il sorriso per me è quello che rende sto manco una delle opere più belle mai scritte in assoluto il primo tipo di sorriso è quello di Oden di Roger di Garp di tanti altri il sorriso secondo me anche Joy Boy credo sarà così quando avrete messo il flashback di chi dice io posso anche morire ho lasciato qualcosa in eredità lo so Garp non siamo certi che sia morto però qualora fosse l'idea è quella perché Kobe ha fatto quel colpo quindi la sua missione è completata quindi è bello chi muore dicendo ok tanto lascio qualcosa alle generazioni future come direbbe Matteotti hai ucciso me ma l'idea è che me già l'ho tramandata a qualcun altro e non l'hai quindi uccisa un altro tipo di sorriso in situazioni completamente disperate un uomo che sta per essere congelato un uomo che già ha preso vari colpi di proiettile sta per morire distanguato però sorridono nonostante tutto rosinante sauro eccetera e lì è un altro tipo di sorriso il del tipo sorridi perché la vita è bella anche a un passo dalla morte sorridi perché vale sempre c'è sempre un motivo per sorridere sono due interpretazioni un po' diverse anche se hanno dei punti in comune ma sono un po' il senso chiaro di One Piece e qui vorrei mettere anche l'aforisma della settimana che si rifà al racconto del papà di Kuma di come spiega Nica ed è di Verga però sì proprio lui Giovanni Carmelo Verga che disse il mare non ha paese il mare ed è già lì di mare One Piece è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare di qua e di là dove nasce e muore il sole Verga era un fan di One Piece dopo una frase del genere ha citato pure il dio Nica bella questa però l'idea effettivamente è così il papà di Kuma decide di ridere per tutto il tempo e di trasmettere questo sorriso di insegnare che in un capitolo intitolato un mondo nel quale non vale più la pena vivere lui sorride per tutto il tempo della schiavitù è tanta roba ovviamente chi è che lo fa sorridere è la speranza di Nica quindi un manga dove il sorriso è la chiave di lettura di tanti personaggi ma loro sorridono perché sanno che arriverà quel qualcuno che è ovviamente il nostro protagonista quindi un manga dove poi unisce un po' l'idea del protagonista Salvatore insieme ovviamente all'idea di un mondo dove il messaggio è ridete sempre ragazzi anche quando tutto sembrerà triste tutto sembrerà difficile voi ridete perché la vita non è mai finita dopodiché Oda come se non bastasse in tutto questo ci ha messo pure Ivan Koff in questo flashback quindi non so ancora dove andremo con Ivan Koff ma certamente è un altro personaggio che ha un sorrisone stampato sul volto e l'inizio del flashback ci farà già capire dove andrà a parare tutta sta storia Garling il cattivissimo che vuole acciuffare tutti ma sappiamo anche che Kuma Ivan Koff ed ebbene sì anche Ginny sopravviverà perché comunque sappiamo che Bonnie è viva quindi se quella lì è la mamma di Bonnie probabilmente avremo la possibilità di un Kuma e Ginny che usciranno vivi da God Valley cosa accadrà al loro sorriso non lo so perché il tempo passa dobbiamo andare avanti allora andiamo anche in conclusione a parlare di Garling sta girando moltissimo ovunque mi state bombardando di messaggi strike come la vedi che la famosa frase di Newgate quando guarda la faccia di Shank e dice il tuo volto mi ricorda quel bastardo che mi ha infitto quella ferita potrebbe essere effettivamente proprio il papà di Shank e Garling effettivamente è vero i due si somigliano e anche entra in gioco il ruolo stesso di Shank che viene accolto dai Gorosei ma quindi Shank è una specie di Rufi che ha il nonno Marin ma lui fa il pirata quindi Shank ha il padre Cavaliere Celestiale ma lui ha voluto fare il pirata e questa la storia è un bambino abbandonato ma è un doppio giochista manco fosse Itachi Uchika lotta un po' di qua un po' di là alla fine deciderà lui da che parte stare boh non lo so anche qui certo è che Oda sta creando un altro quadretto in questa storia se ci fate caso no? perché così come ad esempio ho deciso di mettere insieme alcuni personaggi dico per dire Bonnie Kuma no sono personaggi che noi non avevamo la certezza che fossero parenti la stessa Egghead Vegapunk insieme ci mettere anche i giganti Elbaf tutto ha messo insieme un bel quadretto di tutti questi personaggi Bonnie era una supernova che ancora non aveva un po' come Urohug adesso non ha la sua storia non sappiamo nella trama cosa faranno e Oda si sta inventando ha fatto questo gruppettino ecco Shanks in che gruppettino starà beh in questo momento potrei mettere Cavalieri Celestiali Gorosei Teach perché il legame tra Shanks e Teach è enorme e quindi magari quando poi Shanks entrerà prepotentemente nella trama vedremo anche come si svilupperà tutta la sua storia legandosi anche al ruolo dei Cavalieri Celestiali e ci avviciniamo sempre di più a Mari Giova tra l'altro tuttavia ragazzi io concludo dicendo questo veramente sto capitolo 1095 non so tanta roba perché adesso io potrei iniziare a fare tutte le teorie su Ivan Goff su Shanks su Garling mi sembra veramente di ricordare mi viene solo in mente il finale di Assassin's Creed Revelation quando Ezio Ditore si trova davanti ad Altair e dice no basta basta ho visto troppe cose per una vita sola ecco io dico ho visto troppe cose per un capitolo solo è pazzesco tutta sta roba non so neanche se sarà l'ultimo del 108 perché il flashback è un po' in sospeso potrebbe anche essere un volume con un capitolo in più come a volte capita e quindi concluderlo col prossimo ma certamente il botto finale c'è stato non ditemi che non vi avevo avvisato e vediamo anche le quote avevamo detto che sarebbe partito flashback vabbè ci mancherebbe altro Atras sarebbe morta a quanto pare Atras non si rifega proprio più di sto personaggio si rivede il robottone purtroppo no e io sto sempre pensando a Nico Robin ma Oda non ce la fa vedere ma vabbè 9 a 30 figurati prossimo capitolo allora se continuo il flashback vabbè ma se usciamo dal flashback io direi che l'unica situazione per poter salvare Jolly Bonnie e anche i Rufy in questo momento sono robottone e Coom che mettiamo 1,80 2,20 quote piuttosto basse dopodiché il contrattacco di Rufy allora Rufy potrebbe contrattaccare bisogna capire Gear Fifth quanto tempo ci mette per ricaricarsi e come si ricarica magari se Rufy sente le urla di disperazione qualcosa magari riacquista energia e si rialza perché comunque mi dispiacerebbe che Saturn non assaggi un po' di Gear Fifth vi confesso mi dispiacerebbe che l'impatto tra un Gorosei e il Gear Fifth Nika avvenga così con un Nika già distrutto che non può neanche alzarsi è un po' triste perché colpisce Sanji sapete non sono Zorin Zoran Zoriano Zoroastrano come cazzo si dice perché comunque è un effetto forte del Battle Shonen cioè vedere il personaggio nuovo che fa un colpo a sorpresa dove persino Sanji che è fortissimo non riesce a prevederlo è un bell'effetto un bell'impatto c'erano tante scene ragazzi veramente alcune in realtà già le ho messe quindi non valeva la pena vediamo solo velocemente i messaggi di post a quanti sono arrivati vabbè direi abbiamo già riempito una prima pagina direi che da qui a lunedì dobbiamo fare una bella live piena piena di lettura dei capitoli spero che la live di giovedì e questo video commento vi sia piaciuto nel frattempo ne approfitto per augurarvi un bellissimo weekend io un po' di mal di culo quindi direi che è il caso di fermarci qui vi ringrazio moltissimo mi raccomando fate i bravi ringraziamo Oda per questa bellissima opera e per il resto sempre e comunque viva la fine di One Piece bacione ciao